Ciao ragazzi, io ho appena finito di allenarmi e visto che i tempi di riapertura delle palestre si stanno un pochino prolungando ho pensato di farvi un video, di portarvi un video in cui vi mostro un allenamento completo fatto con soli manubri se poi avete una panca per fare alcuni esercizi, tanto meglio partiamo ho suddiviso l'allenamento in due giorni da ripetere su quattro sedute settimanali quindi vi consiglio di fare scheda A, scheda B, giorno di recupero scheda A, scheda B, giorno di recupero e il settimo giorno da domenica di nuovo recupero quindi allenamento impostato su quattro giorni partiamo dal primo iniziamo con la schiena con un rematore manubri quattro serie da 8-10 ripetizioni in modo da avere già i muscoli della schiena attivi e tenere, riuscire a tenere meglio il setting scapolare negli esercizi successivi di petto secondo esercizio, un rematore manubrio singolo quattro serie da 12 ripetizioni qui l'angolo di lavoro, l'angolo del gomito cambia un pochino ci spostiamo più verso un lavoro sull'upper back infatti l'angolo tra braccio e avambraccio è un pochino inferiore ovviamente non bisogna mai ragionare per compartimenti stagni il corpo si muove nel suo insieme memorizza i movimenti e cresce e genera ipertrofia quando ci sono delle tensioni maggiori terzo esercizio è un pull down con manubri qui a differenza del rematore l'angolo del gomito tra braccio e avambraccio è molto più aperto e resta costante in tutto il movimento può succedere di sentire il lavoro sui tricipiti, di sentire lavorare più i tricipiti che il petto in questo caso è perché l'angolo del gomito è eccessivamente aperto o lo si sta muovendo durante il movimento quello che bisogna fare nel pull down con manubri è lavorare di omero quindi è questo il segmento corporeo che si muove l'avambraccio non deve estendersi deve restare fisso per tutto il movimento ovviamente cerchiamo di lavorare in un range di movimento in cui il manubrio oppone resistenza quindi il range sarà molto molto breve le serie di pull down con manubrio sono 3 da 12 ripetizioni comunque troverete la scheda completa a fine video sullo schermo passiamo ora a lavorare il petto il primo esercizio sono delle croci con manubri facciamo 4 serie da 8 ripetizioni iniziamo con le croci piuttosto che con le distensioni in modo da arrivare al secondo esercizio appunto alle distensioni con il petto che è già congestionato e quindi anche se non abbiamo carichi relativamente alti che ci porterebbero a cedimento sulle distensioni appunto riusciremo a raggiungere il cedimento almeno all'ultima serie perché partiamo col petto già congestionato facendo questi movimenti di croci e distensioni da terra il range ovviamente sarà incompleto però ci potremmo focalizzare sempre molto sul setting scapolare anche per questo, per il roaming completo è importante fare prima le croci e poi le distensioni perché la parte finale della distensione con manubri è a carico principalmente del tricipita partire col petto già congestionato aiuta a lavorare di più il petto in questo esercizio, nelle distensioni quindi dopo i 3 esercizi di schieno 4 serie da 8 di croci con manubri seguite da 5 serie da 8 ripetizioni di distensioni con manubri da terra a questo punto passiamo ad un triset in cui lavoriamo tricipiti e deltoidi posteriori gli esercizi sono una french press con manubri dip sul rialzo, su un gradino e alzate 90 le serie sono 4 8 ripetizioni di french press si passa subito a 12 ripetizioni di dip sul gradino e infine 8 ripetizioni di alzate 90 nelle dip per raggiungere il cedimento facciamo 2 secondi di contrazione di picco al termine della concentrica eseguiamo le dip dopo la french press che ha già congestionato i tricipiti se avessimo un carico tale da raggiungere il cedimento nella french press potremmo anche invertire le dip con le alzate 90 in modo da far riposare i tricipiti mentre si sta eseguendo un esercizio per i deltoidi posteriori e ripartire freschi relativamente freschi e carichi nelle dip finito il primo giorno la prima seduta di allenamento impostiamo la seconda sulla falsa riga del primo allenamento partiamo con un Bulgarian Bulgarian split squat quindi 5 serie da 8 ripetizioni per gamba seguono 4 serie da 12 ripetizioni di affondi all'indietro se abbiamo un pochino di spazio vanno benissimo anche gli affondi camminati io personalmente non ho molto spazio per farli seguono 5 serie di stacchi gambe semitesa in super serie con un leg curl sdraiato da terra in questo leg curl sdraiato da terra è importante lavorare principalmente nella parte dove si avverte tensione quindi nella porzione di movimento a ginocchio flesso bisogna evitare di estendere completamente il ginocchio e comunque stare molto poco tempo a ginocchio quasi esteso si passa agli esercizi per le spalle alzate laterali 4 serie da 8 ripetizioni lento manubri ancora 4 serie da 8 ripetizioni infine un triset dove valgono le stesse regole del triset del primo giorno e quindi carlo manubri al muro in modo da simulare una panca a 60 gradi carlo manubri alternati e infine il calf alzato con un manubrio per volta 4 serie complessivamente da 8 ripetizioni per ciascuno dei 3 esercizi in questo modo ci troviamo a fine settimana con 4 sedute settimanali con i volumi di allenamento che trovate sullo schermo quindi 22 serie di schieno 18 serie di petto 8 serie di bicipiti, tricipiti e polpacci 24 serie di spalle perché le spalle sono muscoli che rispondono bene a volumi alti di lavoro e volumi distribuiti in modo frequente nel corso della settimana e infine 28 serie di gambe sembrano molte in realtà non lo sono però questo non è un allenamento personalizzato non è un allenamento fatto sulle carenze muscolari e di movimento del singolo soggetto è una proposta di scheda che poi potete personalizzare ragazzi il video finisce qui se vi è piaciuto lasciate un like se magari vi piace questa tipologia di video magari provate la scheda vi piace fatemelo sapere nei commenti in modo da motivarmi a portare le progressioni di questa scheda cioè questa è una scheda che va bene per circa 3 settimane poi bisogna cambiarla bisogna inserire delle progressioni se ho buoni riscontri magari faccio un altro video dove vi spiego come progredire da questo protocollo di allenamento quindi ci vediamo al prossimo video ciao ciao